Danzano al ritmo dei tamburi e dello xilofono i giovani che all'aeroporto di Entebbe danno il benvenuto a Papa Francesco al suo arrivo in Uganda, seconda tappa del suo viaggio in Africa, e sono migliaia gli ugandesi che per le strade attendono con entusiasmo il suo passaggio nel trasferimento alla State House. Qui il pontefice è accolto dal Presidente della Repubblica Musegueni, in carica anche nel 1993, quando San Giovanni Polo II visitò il paese. Dopo l'incontro privato, il Papa e il Presidente entrano nel salone delle conferenze, dove sono presenti alcune migliaia di persone, tra autorità civili e protagonisti della vita economica e culturale del paese. Nel suo discorso, Papa Francesco ricorda che con la sua visita vuole prima di tutto commemorare il cinquantesimo anniversario della canonizzazione dei martiri ugandesi, definiti sia i cattolici che gli anglicani autentici eroi nazionali. La loro testimonianza di fede, rettitudine morale e impegno per il bene comune sia di esempio, spiega il pontefice, per voi che avete il compito di assicurare il buon governo, uno sviluppo umano integrale ed un'equa distribuzione delle risorse. Questa mia visita, aggiunge il Papa, vuole attirare l'attenzione verso l'Africa nel suo insieme, sulla promessa che rappresenta, sulle sue speranze, le sue lotte e le sue conquiste. Il mondo guarda l'Africa come il continente della speranza. L'Uganda è stata veramente benedetta da Dio con abbondanti risorse naturali che siete chiamati ad amministrare come custodi responsabili. E ricorda che il Paese ha mostrato un impegno eccezionale nell'accogliere i rifugiati, dando loro anche la possibilità di guadagnarsi da vivere con un onesto lavoro. Questa è la prova del rispetto che il Paese ha della dignità umana. Papa Francesco conclude augurandosi di poter incoraggiare i tanti silenziosi sforzi compiuti per assistere i poveri, gli ammalati e le persone in difficoltà.